Musica Buongiorno, bentrovati, buon sabato mattina, eccoci qua per la consuetà quotidiana La segna stampa 7.30, puntualmente siamo qui tutte le mattine per mostrarvi le pagine principali dei quotidiani il resto è il Carlino, Corriere Adriatico in edizione locale che contengono le edizioni appunto che riguardano il nostro territorio non prima però di aver visto come sempre il santo del giorno e le previsioni del tempo guardiamo le previsioni previste e il santo per oggi eccolo qua, sabato 16 giugno, Beata Maria Teresa Scherrer il sole è sorto alle 5.24 e tramonterà alle 20.53 guardiamo le previsioni del tempo è un fine settimana all'insegna del bello possiamo dire così almeno sulla carta così si presenta sereno, poco nuvoloso, per addensamenti più consistenti però nel settore alto colinare e montano quindi avremo nuvolosità sparse diffuse nel settore centro meridionale come vedete nelle basse marche sui rilievi c'è la presenza della pioggia e una nuvolosità più intensa però sulla costa, soprattutto nella nostra provincia non dovrebbero esserci particolari problemi isolati, piovaschi però appunto dice la didascalia nei settori montani mare ancora mosso, poco mosso nel tardo pomeriggio quindi mare in scaduta mare che ha creato tanti problemi alla nostra costa soprattutto il nostro versante fanese per domani, vedete, molto semplici le didascalie, sereno, poco nuvoloso precipitazioni assenti, temperature in lieve aumento anche il mare continua ad essere poco mosso e mosso nelle ore centrali quindi insomma, fenomeno delle mareggiate in attenuazione vediamo per lunedì l'inizio della settimana il primo giorno della settimana anche qui sereno, poco nuvoloso nessuna precipitazione sole pieno, le temperature ancora in aumento e il mare è ancora mosso queste sono le previsioni per il fine settimana e quindi archiviate le cose come si può dire di prassi andiamo a vedere le pagine dei giornali l'isippo e naturalmente l'isippo e frecce tricolori sono un po' le due cose che accomunano i due quotidiani ma sul nazionale nel resto del calino ci sono anche gli eroi di Ancona i poliziotti però procediamo con ordine andiamo a vedere la prima pagina di apertura del Corriere Adriatico eccola qua bene, Corriere Adriatico guardiamo, vi dicevo frecce tricolori e l'isippo sono le notizie principali di queste due edizioni eccola qua la prima pagina del Corriere Adriatico l'apertura frecce tricolori countdown per lo show puntiamo a 30.000 spettatori il sindaco Ricci invita a raggiungere il lungomare però in bici o con le navette perché sicuramente problemi di viabilità e anche il ministro Bonisolli ne auspica il rientro in Italia parliamo dell'isippo però il Getti ricorre come era prevedibile in Cassazione e la mossa non sorprende la procura pesarese la PM Cecchi dice tesi consunte e vediamo nelle pagine dell'interno appunto queste due notizie affrontate più ampiamente frecce tricolori tornano dopo due anni questa è sicuramente una bella notizia per tutti gli amanti del volo ecco qua un'immagine un'immagine che ritrae le frecce tricolori in allenamento ieri puntiamo a 30.000 spettatori il sindaco Ricci vuole appunto bissare il successo di due anni fa della PAN ma la pattuglia francese però non ci sarà in tanti ieri hanno già avuto come vi dicevo un assaggio dell'air show con le prove generali sul lungomare qui un passaggio con i fumogeni naturalmente in bianco senza i colori della bandiera quelli saranno riservati domani gli orari alle 16 spettacolo con esibizioni di elicotteri e di altri veivoli scatta dalle 15 però la chiusura dell'area 25 minuti durerà lo show della PAN poi ci sono anche mezzi a terra e in mare 5 motovedette della Capitaneria 3 mezzi della Guardia di Finanza oltre una ventina di poliziotti impegnati nella safety e nella security per i controlli negli spazi lungo il viale Trieste per assicurare a tutti un pomeriggio di spettacolo e di tranquillità tutti quanti quindi con il naso all'insù l'Isipo il Ghetti annuncia quindi il ricorso in Cassazione però la mossa non coglie di sorpresa la procura il portavoce del Trust americano si è detto deluso lui è deluso per la nuova ordinanza di confisca della statua e seguiremo questo prosieguo dell'Isipo con grande attenzione poi addio a Gilberto Gasperi la destra perde un pilastro la sua storia la sua vita ripercorsa nell'articolo di Stefano Mascioni lunedì pomeriggio per tutti quelli che vorranno dargli l'ultimo saluto si terranno i funerali nella chiesa di Sant'Agostino alle ore alle ore 16 e ancora nella pagina che riguarda però la Valle Foglia del Corriere Adriatico il perito di Nicky Aiden al lavoro su Via Belvedere anche Nicky Aiden per chi non lo sapesse è pilota motociclista del mondiale che ha perso la vita in un incidente stradale a Misano Adriatica in un incrocio appunto il perito analizzò la dinamica dell'incidente ora lo stesso perito per capire le cause dell'incidente di Stefano di Stefano Conti nella pagina di Urbino rissa tra badanti e questo è l'articolo che riguarda quello che è avvenuto nell'ospedale in fase notturna tre denunce irruzioni in un ospedale di una marocchina e delle sue due figlie contro un'italiana che assisteva un anziano ancora dal Corriere rimaniamo nelle pagine che riguardano però Fano anche questa è una notizia che accomuna un po' tutti i due i due quotidiani la mareggiata che ha cancellato tre stabilimenti a Sassonia verificato vanificato scusate l'intervento di ripascimento si scatena l'opposizione e Fanesi replica questa è un'immagine molto eloquente di quello che è avvenuto nelle ore scorse siamo negli spazi dei bagni Carlo a Sassonia dopo la mareggiata ombrelloni insomma colpiti dall'acqua fino in terza fila come anche che abbiamo mostrato ieri nel telegiornale nel telegiornale per quanto riguarda le spiagge di Ponte Sasso Casalbergo del Vecchio rincara la dose contro l'operazione Fondo Cives per l'RSA Housing Sociale e Piscine inoltre Signora dice che fine faranno i dieci ospiti non autosufficienti critico anche del Vecchio sulla vendita del terreno quindi Casalbergo 14 anziani in strada nella Valle Cesano un consiglio comunale quello di Marotta Mondolfo molto animato per la questione dell'unione che ritorna in ballo Marotta Unita dice il sindaco noi ci batteremo perché il referendum sia rispettato e poi anche il futuro di una scuola che c'è chi vuole costruirla ex novo e c'è invece chi la vuole mantenere così e ripristinare la scuola quindi non si demolisce e poi c'è cronaca a centropagina si sfrena l'auto con due bambini dentro sempre a Mondolfo menuti di panico l'altra sera per un'auto che si è sfrenata con a bordo due bambini di 7 e 3 anni però come vedete l'auto poi si è fermata contro un muretto tanta paura ma fortunatamente nulla di grave se non i danni alla macchina la pagina di Senigallia del Corriere Adriatico l'ordine della Capitaneria ai Bagnini togliete quei cartelli anti-vandali erano stati messi all'ingresso per difendere la spiaggia ma questo evidentemente non piace alla Capitaneria di Porto il servizio della Polizia Locale esteso poi anche di un'ora questo per andare incontro alle esigenze di ordine pubblico tutto questo a Senigallia e poi cambiamo il quotidiano andiamo nel resto del Carlino nella cronaca nazionale non poteva non essere così a proda l'episodio di Ancona che vi abbiamo mostrato anche nelle immagini del nostro telegiornale vedete i momenti concitati del salvataggio si intravedono nei cerchietti la gente di Polizia che con lo sfollagente tenta di rompere il vetro e ci riesce dell'auto vedete l'auto è questa praticamente c'è soltanto una spanna fuori dall'acqua veramente le donne hanno rischiato di fare la fine del topo però vedete nelle due cerchietti in basso gli agenti che le portano in salvo e questo è tutto il gruppo dei sei agenti delle tre volanti di Ancona che sono poi i due agenti protagonisti del salvataggio sono stati ricevuti dal eccoli qua dal Carlino e gli è stato dato il Carlino d'oro sono l'agente scelto Simone Cingolani e l'assistente Marco Croppo che erano presenti al Carlino per questo riconoscimento però vi dicevo Frecce di Colori e Lisippo e qui in apertura anche del Carlino per il Lisippo il ministro sostiene la confisca il Lisippo deve tornare in Italia il Ghietti annuncia l'ennesimo ricorso in Cassazione però Silvia Cecchi il PM dice ordinanza solida non ci spaventano e poi fotonotizia per prove d'emozione così non potrebbe non essere vedete la pan informazione con il solista che dà spettacolo e il meglio di sé in questa foto domani è il giorno delle frecce tricolore che hanno già dato spettacolo nelle ore del pomeriggio di ieri e poi si parla di sanità nel Carlino guai per la sanità perché ospedale il conto non torna Simona Spagnoli dice tra pensionamenti e assunzioni il saldo rimane insufficiente e ancora eccola qua l'articolo che riguarda le frecce frecce in bianco ma emozionanti prove di spettacolo domani è previsto sul mare il comandante Mirco Raffaelli Mirco Raffaelli scusate il comandante della pattuglia dice a Pesaro ci siamo trovati sempre molto bene nel 2016 anche i piloti rimasero impressionati volando sulla spiaggia gremita vedere lo spettacolo e tanta gente e il tanto affetto che gli viene tributato e poi a Pian del Brusco prove generali di elezioni siamo a Monbaroccio dove l'ex primo cittadino Massimo Muratori amministratore storico di Monbaroccio dal 2009 al 2014 dice facciamo scegliere ai cittadini con le primarie questa è la sua idea siano i cittadini a scegliere il candidato da portare a sindaco Monbaroccio Massimo Muratori prepara il dopo Vichi e lancia l'idea delle primarie e poi a Tavuglia c'è un motoraduno in nome di Valentino Rossi e quindi tutta gialla e blu Tavuglia per il suo campione di casa e a Fano anche qui vi dicevo comune denominatore le spiagge tra i giornali spiaggia travolta dalle onde del mare i bagnini dicono il ripascimento grazie per averlo fatto ma è stato vanificato dall'assenza delle scogliere perché in poche ore il mare si è ripreso quello che i camion e le ruspe avevano portato in una notte l'acqua si è mangiata la ghiaia messa poche ore prima poi la cronaca nel resto del carlino c'è la denuncia di una mamma che ha fatto un esposto ai carabinieri mia figlia è seguita nel sottopasso siamo alla stazione o denuncia questa mamma un pedinamento in una stazione erano due o tre di colore la ragazzina ha 13 anni è tornata indietro al bar e ha chiamato al telefono la mamma per denunciare questo episodio e poi andiamo a San Costanzo perché c'è tante iniziative che riguardano la città limitrofa qui al nostro comune calendario di eventi allestiti dal comune con 20 associazioni un'estate di sport musica teatro e poi a luglio le olimpiadi senza frontiere una sfida sportiva quasi 500 in gara dal 12 al 22 luglio si cimenteranno in più di 25 discipline e gli anni passati c'è stato grande successo per questa iniziativa grande successo di pubblico chiudiamo con la simpatica vignetta di Giombetti che ripropone ciò che è avvenuto in corsia per la rissa tra badanti che si contendono un paziente vedete qui molto simpaticamente rappresentato l'episodio da Giombetti commissariato e procura hanno individuato le protagoniste di una di una lite in ospedale bene questo è quanto insomma per oggi grazie siamo riusciti a portare a termine questa rassegna stampa dopo le bizze del touchscreen grazie per essere stati in nostra compagnia un caro saluto anche a tutti coloro che ci seguono sul web su facebook con le nostre dirette questo è il numero in sovrimpressione che vedete da utilizzare con whatsapp oppure anche con la messaggeria telefonica per entrare in contatto con la nostra redazione e segnalarci tutto quello che ritenete utile e che accade sotto i vostri occhi bene buon fine settimana buon fine settimana di sole a tutti voi insomma ci rivediamo la settimana prossima Occhio ai giornali torna puntualmente alle 7.30 qui sul canale 17 Fano TV buon fine settimana a tutti voi a tutti voi